Sarà la commedia dal titolo Guardami Guardami ad aprire il primo Festival Nazionale di Teatro Guitti d'Oro. Mercoledì 5 ottobre alle 21, oltre al momento teatrale, verrà dato spazio all'arte culinaria con degustazioni di prodotti tipici. Comincia così questo mercoledì il Festival Nisseno che si chiuderà il 29 di ottobre con il Gran Gala Finale e a cui parteciperanno anche altre tre compagnie e per l'esattezza l'Associazione Culturale Sichilia da Santa Teresa di Riva, la Compagnia Teatrale Re di Cuore di Agusta e infine la Compagnia Teatrale Clyde da Ancona. Lo spettacolo di mercoledì verrà portato in scena dalla Compagnia Dietro le Quinte proveniente da Milazzo e nata nel 2006. Un gruppo artistico che ha partecipato con i propri spettacoli a rassegne, manifestazioni e concorsi, non soltanto in Sicilia ma anche in Calabria, Campania, Marche, Puglia e Toscana, ottenendo anche alcuni riconoscimenti. Domani iniziamo con Guardami Guardami, una commedia brillante, portata in scena dalla Compagnia Dietro le Quinte di Milazzo, una compagnia che negli ultimi anni ha partecipato a decine di festival, vincendo veramente tanti e tanti premi. Quindi avremo il piacere di ospitare una compagnia di alto livello, così come del resto lo saranno anche le altre compagnie che si esibiranno sul palco del Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, che è stato gentilmente messo a disposizione in maniera gratuita dalla famiglia Vandalà per la realizzazione di questo festival. La giuria è composta da elementi di alto livello del mondo culturale e teatrale, cittadini e non. è formata da cinque elementi più un sesto giudice, diciamo così, d'onore, che si aggiungerà ogni sera alla giuria permanente e saranno sempre degli attori conosciuti ai più che frequentano il mondo del teatro. Ad esempio, domani sarà la volta di Vincenzo Volo come giudice d'onore, ovvero la spalla storica di Enrico Guarneri. Gli altri spettacoli, il prossimo sarà mercoledì giorno 14 e sarà la volta del musical La Baronessa di Carini, un musical con 16 attori scena e un'orchestra dal vivo e anche per questo spettacolo c'è una grande attesa.